Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del Sigil, siamo arrivati alla mappa Sheol, nel 5 M2 Ok, tre in fighting, perfetto, perfetto, tirane un'altra, uno e quello è andato, quell'altro è andato Sta facendo tutto lui, bene così, perché questo non si è... eh vabbè, però se questi salgono scusate L'altro laggiù, eh, da quanto lontano mi è beccato Allora C'è qualcuno, eh c'è qualcuno, ma può... per poco non mi telefragava sto qua, ma quindi da giù si può salire di nuovo su Eh che cavolo, non l'ho visto, ma dove sta? Non lo vedo, eccolo Ah, questa che fa? Ah Vabbè, adesso non la prendiamo Eh, sì, sempre su Sigil, tanto c'è l'autosave Eh... ok Da dove sei spuntata te? Quindi bisogna correre o contro questo... esatto, ho capito allora, o contro quello per risalire Ah Ok Cos'è quello? Un baron? Un baron nella chiave rossa, ok Se lo affronto da qui non dovrei avere molti problemi Certo ci vuole una vita, eh, per battere un baron con il fucile Però seguire i consigli che mi hanno dato prima di iniziarlo e di non sprecare le munizioni Quindi Chiave rosso Che ci facciamo con questa? Dove si va? Di qua? Aspetta, fammi salvare, va Eh... No, due colpi sprecati no, però Eh Ok Ma salve Ok Ok, qui c'è una leva Qui c'è un'altra finestra Forse è quella... Ah Non si prosegue, ok Premiamo qua, allora Questo... Oh Ma era un cyberdemon? No, raga, quel suono è inconfondibile, era un cyberdemon No, questi colpi no Questi colpi no Per la miseria Un cyberdemon, ma dov'è? Me! Ok Ce la fa raggiungere con i razzi qui È un problema Perché devo premere quella Oh Ok Non mi ha visto Perfetto Un momento Eh Vabbè No, no, no Non ho armatura Questo mi fa un sacco di danni Se mi becca Dai però Eh Dannato Come faccio ad abbatterlo? Non ho abbastanza colpi Dai L'ho solo Però vieni qua Eh Si Eh, vabbè Come faccio? Non posso abbatterlo Ci deve essere un trucco Un momento Noi qui siamo No, vabbè Se funziona Eh Oh, aspettate Eh Sto riflettendo Come faccio ad abbatterlo? Perché qui Che poi mi serve anche Nel caso Anche quel berserk Posso telefraggarlo forse Boh Proviamo Non posso Eh Però se mi becchi così Che cavolo Ma che Sei un cecchino Posso telefraggarlo Però deve capitare Nel momento giusto Eh Toglimi Ma quanta vita Ma tolto Dai però Troppo indietro Sono sicuro Di poterlo fare Però Eh Deve farsi più avanti Deve farsi più avanti Ok Magari se mi vede di qua Viene più di qua Ok Ma dai No ragazzi Sono sicuro Di poterlo fare Sono sicuro Di poterlo fare Vuoi dirmi Che non cammina Fino a lì No Cammina Fino a lì Però devi Capitarci bene Dai però Cammina più avanti L'avevo ucciso E' frustrante Sta cosa E devi sperare Che lui capiti bene Madò No 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 mettiti bene Bravo Lì Fatto Fatto E posso tornare Anche qui Perfetto Perfetto Lo so Ho perso tempo Scusate Però Volevo vedere Volevo vedere Se ci riuscivo Ok Ok No Queste mi possono Spingere giù Se mi beccano Chi lo sa Non voglio scoprirlo Comunque Che è sta zona Un labirinto Che è un Perché qua ci sono Dei pezzi di armatura Che si è aperto Che si è aperto Eh Oh Non posso No 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 Troppi nemici Troppi nemici Due cacodemoni Due spectre Per il momento Spectre Scusate Che si è Qualcosa altro Si è teletrasportato Dietro il cacodemone Che non ho visto Che si è teletrasportato Qui Eh Ero Unimbo Ok Lì c'è una Sourcephere Che è l'unico Trigger Della mappa Mi vuoi far ridere È l'unico Trigger Devo prenderla Per forza È l'unico Trigger Ok È l'unico Trigger Quindi ragazzi Devo tornare a fullarmi Lo so È sprecato Quel berserk pack Così Già che ci siamo Andiamo a raccogliere Anche quei 20 colpi Che ho rimasto Dietro È l'unico Trigger Della mappa Mato Torniamo indietro E torniamo così Prendiamo questo Perché se non Non so se lo sapete Lo ripeto ancora una volta Dopo il 100 Non è possibile curare Il Dungai E praticamente Siccome A punto vale 100 La source Se la raccogliamo Beh ci fulliamo al massimo Semplicemente Ok L'ho preso E allora Si è aperto qui Non si vede Non si vede Un accidenti Lì c'è un'armatura E qui c'è Dai Questo è un trigger Dai È un trigger Eh Lo sapevo Che era un trigger Ma cosa Ah ok Questa è un'altra zona finale No Però ho sprecato I colpi del fucile Non posso nemmeno fare Devo sprecarne 8 Prima di prendere Quella Pacchetto lì 4 5 6 7 Ok Ok No Vabbè dai Danni minimi Vabbè figurati se mi faccio Beccare dal Baron Eh Ok 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 Volevo prendere Quell'armatura Ma adesso È qua dietro Sì Ah è in segreto Perfetto Posso Saltare così Sì Ok Fine mappa Ok Ok Sciol Finito Le gabbie Dei dannati Mmm Come al solito La prossima mappa La vedrete Nel prossimo episodio Grazie per essere stati Anche qui con me Per questo video Ci vediamo alla prossima Sempre qui sul mio canale Sì Alla prossima